Nell'inferno di Potgorica abbiamo portato la luce, abbiamo tracciato la nostra via, abbiamo scritto un futuro nuovo, un futuro tinto d'azzurro, siamo partiti dalle retrovie dal primo turno, siamo risaliti dai sotterranei dell'anonimato, abbiamo masticato Amaro, abbiamo versato le lacrime di chi soffre, ma che sa in cuor suo che il sogno presto o tardi diventerà realtà. E oggi ci prepariamo a piangere ancora, ma stasera piangiamo di felicità, piangiamo di gioia, potete sorridere azzurri perché ci avete fatto sognare, avete saputo sognare voi in primis e poi avete fatto sognare noi, ci avete uniti sotto una bandiera, sotto al colore azzurro, avete fatto battere all'unisono i cuori di ciascuno di noi. Stasera la palla a mano europea guarda, guarda ancora Potgorica, ma stasera non guardano gli altri, stasera guardano tutti noi, stasera guardano l'Italia, perché adesso ci siamo davvero, 34-32. Il sogno è diventato realtà. Dopo 27 anni l'Italia della palla a mano è qualificata alla fase finale dei campionati mondiali. Andiamo ai campionati del mondo 2025. Incredibile, incredibile, incredibile.